Atmosfera delle grandi o meglio grandissime occasioni allo stadio atriatico di Pescara nell'anticipo serale della decima giornata del girone B di Serie C davanti agli uomini di Zeeman arriva la capolista, arriva la Torres con i sardi veramente solidi, sardi che quasi subito al ventiquattresimo vanno vicinissimi al gol del vantaggio, Pizzari deve volare su una conclusione da calcio piazzato, poco dopo il Pescara prova a farsi vedere col solito cupone, conclusione con il destro, Zaccagno copre bene il suo palo e si rimane sullo 0-0, ancora Pescara che prova a rendersi pericoloso, vola forse con leggero ritardo Zaccagno e si resta sullo 0-0 anche qui, Pescara che poi sbloccherebbe il match su questo pallone messo dentro la deviazione di Merola, è quella vincente ma l'assistente dell'arbitro alza la bandierina e si rimane sul 0-0, ancora un'occasione clamorosa per la Torres, qui su un calcio d'angolo, colpo di testa e volo veramente clamoroso da parte di Pizzari a ricacciare la sfera dalla porta, Torres che poi nel secondo tempo proverà ad impensierire proprio Pizzari e ci riuscirà clamorosamente al cinquantottesimo su un pallone messo dentro, una conclusione al volo con Mancino, vede Pizzari volare, c'è il pallone colpito poi di testa da due passi da Masala, Pizzari vola ancora ma lo fa quando la sfera ha già superato la linea di porta, quindi per l'arbitro è valido il gol, qui possiamo riapprezzare il doppio grande intervento, purtroppo per il Pescara è insufficiente da parte del portiere ex Milan ancora spazio per la Torres, qui Ruocco salta il primo avversario, salta anche Pizzari in una difesa veramente in difficoltà quella di Zeman e trova il centro dello 0-2 che al sessantatresimo rischia di chiudere già il match, di chiudere la disputa qui è possibile appunto riapprezzare la bellezza e più che altro anche la disattenzione della difesa del Pescara, poco dopo pallone dentro, disquizzato in movimento, Merola in allungo a trovare il gol dell'1-2 che riapre il match, riapre gli ultimi 30 minuti, recupero compreso di partita con il Pescara che da qui in poi proverà in tutti i modi a buttare il cuore oltre l'ostacolo indeciso nell'uscita del portiere Zaccagno, forse un errore di comunicazione tra lui e la sua difesa, ancora il Pescara che proverà a trovare subito il pareggio qui con la grande conclusione di Mancino di Brando Moruzzi, pallone che impatta sulla traversa, c'è spazio anche per Cangiano subentrato con il suo destro a giro Cangiano traversa anche per l'esterno offensivo di Zeman, poi sulla conclusione da due passi rispetto al portiere Zaccagno, pallone che termina sul fondo l'ultima occasione del match ce l'ha, la Torres con questo Mancino che sbatte sul legno del Pescara non c'è più tempo, la Torres passa per 1-2 all'Adriatico e inizia a scavare un solco discretamente importante nei confronti delle sue inseguitrici